1, 2, 3 un re dei ladri allora noi abbiamo 500 chiavi 1.000 e 10 chiavi e 500 denari che non so cosa servono e già iniziare e direttamente apre i consigli di cattiveri tocca per irrompere tocca per iniziare così salto no credo di non aver capito qualcosa ah ho che faccia tutto da solo si ok la musica no ok uno ho saltato l'altro pure ok ok ho capito in sostanza bisogna cliccare no no livello 4 stupido bisogna cliccare sempre questo livello 2 andiamo quando faccio così per irrompere ci toglie 3 chiavi e poi per iniziare dobbiamo fare così passiamo un attimo il volume ok 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 ho capito tutto no abbiamo un limitato numero di vite ok 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 tipo mario però non mi puoi fare la pubblicità ogni 2 secondi eh insomma oi boh livello 3 facciamoli un po' in ordine ok tipo una campagna livello 3 vai perfetto vediamo ok iniziamo a capirci qualcosa apriamo il lucchetto perfetto che c'è questa cosa oddio oddio che pro sono peggio di un ninja raga peggio di un ninja ma che pro che sono ma che pro che sono ma che pro mi chiedo andiamo con livello 4 subito ragazzi subito è un platform ma cos'è questo perché ho questa affare vola sembra un gasto di minecraft venuto male adesso abbiamo queste 3 e allora ok ci siamo ci siamo il nostro dobbiamo trovare un nome lo chiameremo stanley no torna indietro non è stata una buona idea quindi che succede quando moriamo niente ok vai ci siamo ok ok cadiamo giù di qua e abbiamo preso le cose oddio come l'abbiamo evitato no no e no e no e no allora concentrati concentrati ok ok l'abbiamo evitato abbiamo evitato e prendiamo subito il nostro bellissimo forziere alti 600 gem ok la roba inizia a farsi un attivino un po' più capitata perché non riesco a dirgli da andare a destra o sinistra livello 5 andiamo allora il nostro fantasmino che si chiama come lo chiamiamo il nostro fantasmino stanley il nostro fantasmino stanley stanley è orribile fantasmino come lo chiamiamo io lo chiamerei fantasmino ma no 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 dai su allora fantasmino fantasmino vai fantasmino fantasmino sulla fascia è lui big parkour naruto naruto non mi importa un cavolo fammi giocare con il mio cavolo di fantasmino insomma faccio parkour e voi neanche ve ne accoggete tre stelle a che pro diamo subito il livello sai succederà qualcosa di entusiasmante in questo gioco ogni tanto no ma qui me l'ha chiesto solo uno allora parti lo devo dire ah ok ok attenzione attenzione c'è un cannone spara laser beh volevi eh si voleva e ha voluto in realtà ok questa parte è semplice è quella che mi sfugge allora eh ok ok stiamo perdendo tante vite non dobbiamo sennò poi no mi sono caduto in testa oi ok 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 non è andato devo saltare una sola volta ho capito ho capito non è andato il cannone raga non facciamoci domande a noi non importa dove sia andato il cannone liberators già bene niente ci gioco liberators che è un altro giorno non oggi non è andato una stella sola che schifo raga non siamo pro neanche a questo gioco vergogni livello 7 abbiamo poche vite eh quindi ta 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 ma anche se due è storto ok ok che faccio perché cado e sposto di là ora stiamo fermi oddio 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 non credevo si potesse fare infatti stavo zitto per quello oddio come fa come fa cioè allora un secondo un attimo come fa un fantasmino nero non è nazismo un fantasmino nero a passare tra i due cose volanti cioè nel senso quelle fanno e se li passa in mezzo fa non ha senso non ha senzamente senso e con questa bella di saggezza noi ci lasciamo per questa volta mi raccomando se volete la seconda parte scrivetemelo nei commenti altrimenti prossima settimana un altro episodio quindi scrivetelo nei commenti lasciate like iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao shalatralla